Buongiorno e benvenuti a Zoom sulla città, l'appuntamento dedicato alle attività del Comune di Napoli. L'ospite di oggi è Chiara Marciani, Assessora alle politiche giovanili e al lavoro. Buongiorno Assessore. Buongiorno. È già tempo di cominciare a pensare a Giugno Giovani. Che cosa si sta preparando? Giugno Giovani è un'iniziativa che è ormai entrata nel programma tradizionale degli eventi della città di Napoli e quindi anche quest'anno abbiamo voluto mantenere questa tradizione cercando anche un po' di portare delle novità. Abbiamo nei mesi scorsi provato a candidare la nostra città a un evento nazionale in cui abbiamo voluto valorizzare la creatività e il talento dei nostri giovani e quindi vorremmo che anche Giugno Giovani fosse l'occasione per dimostrare ancora una volta che Napoli è la città del talento e della creatività. Quindi abbiamo inserito questo slogan e attraverso questo avviso che sarà pubblicato a breve vorremmo che appunto tutti i talenti, l'immaginazione, la creatività appunto dei nostri giovani possa avere un palcoscenico particolare in tutti i parchi, i musei, i luoghi appunto aperti e non della nostra città che in questo modo potranno ospitare una serie di eventi. È già stato pubblicato però un avviso pubblico per invitare i soggetti privati a sponsorizzare l'iniziativa. Sì, questa è una novità invece. Abbiamo voluto chiedere ai privati della nostra città di unirsi a questa iniziativa e non solo in questa ma a tutti gli eventi che riguarderanno i giovani della nostra città chiedendo appunto delle sponsorizzazioni. Quindi sul sito del Comune di Napoli troverete questo avviso attraverso il quale è possibile presentare una candidatura come sponsor per accompagnarci in questo percorso. Ci sono naturalmente vari tipi di sponsorizzazioni che possono essere presentati anche con vari impegni economici e quindi ci auguriamo che tante realtà produttive del nostro Comune possano essere vicine a noi in questo percorso che ci auguriamo così possa valorizzare tanti giovani. E invece per quanto riguarda il bando proprio per partecipare al Giugno Giovani cosa prevede? Giugno Giovani come dicevo prima ha la possibilità di offrire delle opportunità per raccontare quelli che sono i propri talenti, le proprie creatività, ospitare degli spettacoli ma non solo. Vorremmo anche che fossero raccontate delle storie di giovani della nostra città che hanno avuto delle esperienze di successo e che possano essere anche di stimolo appunto per gli altri giovani. Con un'altra attenzione inoltre. La nostra città non ha mai avuto un forum dei giovani. Ci viene chiesto da tanti ragazzi e ragazze che vogliono impegnarsi e che vogliono attraverso il forum fare in modo che la politica anche venga vista come qualcosa di meno lontano. Un impegno, un'attenzione verso i problemi della città possa essere attraverso il forum un elemento appunto importante e quindi vorremmo che Giugno Giovani diventasse uno strumento condiviso per arrivare poi alla creazione e le elezioni del forum dei giovani della nostra città. Si preannuncia un appuntamento molto importante definito a livello nazionale il 6 e 7 maggio. In piazza del plebiscito avremo la tappa napoletana del progetto Tractur che è rivolta ai giovani inattivi di età compresa tra 14 e 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Questa è una categoria che negli ultimi tempi è diventata un po' specifica. Si devo dire quella dei giovani appunto che non hanno un'occupazione, che non sono impegnati in percorsi scolastici o formativi è un problema serio che riguarda tanti ragazzi e ragazze della nostra città e quindi con molto impegno stiamo partecipando a questo programma del Ministero dei Giovani per fare in modo che questa due giorni del 6 e il 7 maggio possa essere un'opportunità importante. Avremo questo grande tir in piazza plebiscito e dei gazebo che non solo ospiteranno dei momenti in cui racconteremo dei percorsi e delle possibilità che ci sono per tutti i ragazzi e per tutte le ragazze della nostra città, ma sarà anche un momento in cui informarsi attraverso questi gazebo che ospiteranno tante realtà che fanno formazione, che offrono anche opportunità di lavoro e quindi speriamo che possa diventare un momento importante anche per i ragazzi che saranno con noi in queste due giorni. Questo è un progetto che in realtà è una campagna informativa itinerante, è promossa dal Ministero e credo che anche la Ministra stessa parteciperà. Sì, il 6 pomeriggio sarà presente anche la Ministra Dadone e poi appunto ci saranno la sera, ci saranno anche degli eventi diciamo più ludici, musicali e il giorno dopo invece il sabato mattino ospiteremo un momento in cui racconteremo delle esperienze e daremo, cercheremo di essere vicini ai giovani raccontando delle esperienze e dando loro delle opportunità soprattutto. Grazie a tutti per averci seguiti, vi diamo appuntamento al prossimo approfondimento con Zoom sulla città.